L'impatto della DOP Economy sul mercato agroalimentare italiano. Si è discusso di questo ieri 9 febbraio per iniziativa di confagricoltura della Camera di Commercio di Salerno al Fruit Logistica di Berlino, nel corso di due convegni. Il primo, l'agroalimentare italiano settore strategico per l'economia, moderato da Raffaele Acquadretti, direttrici di MyFruit.it, è stato introdotto da Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno. Sono intervenuti tra gli altri Enrico De Micheli di Acroqualità, Mario Miano, presidente del consorzio Marrone di Roccadaspide e Salvatore Scafuri, presidente di Conf Cooperative Salerno. Nel specifico si è parlato di come le piccole DOP e IGP possono essere aiutate a crescere perché è evidente che il loro impatto sul mercato sia minore rispetto a prodotti DOP tipo il parmigiano o la mozzarella di bufala.